Dottor Tubaro, recentemente avete ottenuto l'ennesimo riconoscimento come BTC, ma come siete riusciti a arrivare? Come fate a ottenere questi risultati che onestamente hanno anche del clamoroso, devo dire? Soprattutto sul nostro territorio siete un'eccellenza, un po' di tutto anche nei rapporti con i dipendenti, direi. Noi siamo molto fieri di aver ricevuto per il secondo anno consecutivo il riconoscimento di Panorama e quest'anno ancora di più in quanto ci siamo classificati primi nella nostra categoria di riferimento come unica azienda della provincia di Varese. Allora, per noi è stata non una sorpresa ma un piacevole riconoscimento in quanto la ricerca è indipendente, quindi viene condotta senza alcun coinvolgimento dell'azienda, l'abbiamo scoperto a posteriori quando il risultato è stato pubblicato. Sicuramente questo risultato è frutto, o aspichiamo che sia il frutto, del coinvolgimento dei collaboratori, della continuità dei nostri collaboratori. Non è raro, anzi è consuetudine, vedere all'interno della nostra azienda delle carriere molto lunghe. Siamo particolarmente noti e riconosciuti per lo sviluppo delle carriere interne, per la mobilità anche interfunzionale del personale. Una buona parte della nostra dirigenza oggi ha fatto tutto il proprio percorso di crescita all'interno dell'azienda, partendo da posizioni di neodiplomato, neolaureato e crescendo progressivamente. Questa attenzione al coinvolgimento dei dipendenti e alla crescita interna e ai lunghi percorsi di carriere, al basso turnover di personale che abbiamo all'interno, parla da sé rispetto a quello che può essere il benessere delle persone all'interno della nostra realtà aziendale. Ecco, tutte situazioni che non sembrano nemmeno di parlare di un'azienda italiana, perché sono caratteristiche di grandi aziende e di grandi gruppi stranieri, direi. Non so se sia così, sicuramente l'azienda che sia italiana o un'italiana poco conta. Quello che conta è l'imprinting che l'azienda si dà all'interno del proprio assetto organizzativo, del coinvolgimento delle persone e della cura, del benessere e della crescita delle persone, finalizzato a un obiettivo di mantenimento di un'architettura di valori che caratterizzano grandi aziende come la nostra. La continuità nel tempo, l'innovazione e la competitività sul mercato di riferimento. Ecco, mercato di riferimento, direi che la BTC in tutto il mondo è conosciuto anche per una grande evoluzione nel settore della domotica. La domotica ormai da tanti anni è uno dei nostri punti chiave e lo è sempre di più. Noi oggi siamo un'azienda nota per le infrastrutture digitali dell'edificio. Una volta ci chiamavamo, ci definivamo azienda di installazioni elettriche, siamo andati nel tempo molto oltre. Oggi tutto quello che è il mondo connesso e i prodotti dell'IoT, dell'Internet of Things, sono l'evoluzione normale di quello che è il nostro settore di riferimento. La nostra azienda ha avuto il merito di essere stata capace a monitorare l'evoluzione e a rimanere innovativa e competitiva rispondendo efficacemente a quelle che erano le richieste dell'evoluzione dei nostri mercati.